Ciao, ciao. Grazie di essere qui, 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 con me oggi, con me oggi. Oggi voglio fare un semplicissimo get ready with me. Devo uscire e devo anche prepararmi per un prossimo video che voglio girare, quindi approfittiamone e prepariamoci insieme. Se vuoi, puoi fare della skin care come in questo momento, truccati, perché non sarebbe bello condividere questo momento insieme, per l'assaggio insieme. Prima di cominciare, ti ricordo di mettere mi piace. Ok. Per rendere questo momento più rilascante, aggiungiamo quella candela. Devo anche farmi la skin care, almeno sollavate il viso. Eccoci qua. Tiro per la zonina. Svegliere. Svegliere. E questo lo appuzziamo qui. Che bello. Come primo step, appunto, faccio un po' di skin care. Mi sono portata tutto. Ehm... Partiamo dal tonico. Non è proprio un tonico, ma è... Era in un pacchetto regalo di Natale. Quindi lo uso. È tipo una crema, uno spray idratante della Nox. Tipo quelli che si usano l'estate. Però c'è scritto che si può usare anche per la skin care. così. Dovrei stare a venti centimetri. Proviamo. Questo lo rimetterò dopo. Anche dopo. Ci sono splendido. Non so. Lo amo. Benissimo. passiamo al contorno occhi e... io ho tante labbra perchè mi stanno tirando tantissimo perchè io ho il contorno occhi e il labbro sempre molto molto secco contorno occhi uso questo della Kiehl's che mi aveva mandato appunto il brand sarebbe un contorno occhi in otte ma visto che mi metterò anche il bando tinto oggi voglio trattare bene 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 si chiama Midnight Recovery Eye e io ho tutto uno bene mi metto si è assorbito bene adesso voglio provare una cosa aspettate ok sulle labbra sulle labbra vado a mettere questo che è è un lip primer in realtà mi piace molto di Cass faccio vedere la marca ma questa marca piace tanto è tipo un makeup minimal piace molto questo questa è una combo rossetto lip primer secondo me è molto intelligente mi piace molto 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 intanto a mantenere la pelle a purificarlo un pochino io ho la pelle secca ma un po' tendente a stare impura e ve l'ho detto questi prodotti sono troppo bellini con il modo che un po' tendere un po' tendere l'ho detto che 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 ne metto poco e un altro bel ragazzo qui e anche questo non lo vado a distribuire e un altro bel ragazzo bene un po' sul collo di rosso mi piace da molti fare questi video come faccio la skin care mi trucco vi giuro farei anche solo questi video tutti i giorni mi piace tantissimo ascoltare tutti i suoni è una cosa che mi rilassa tanto come crema giorno ne provo una nuova non l'ho mai provata di questo brand qui che è burla twice mi ha sentito parlare molto molto bene e l'ho trovato su amazon e volevo appunto provarlo vi lascio il link che i link che trovate sotto diametro sono sempre affiliati lo dico per onestà e quindi appunto ho sentito parlare molto bene e volevo provare appunto queste mini size quindi oggi andiamo a provare la crema idratante con SPF vediamo se riesco a fare un po' di dressing per la crema un po' di Grazie a tutti. E qui ci sono il cleanser, una soluzione sfogliante, un creme idratante con SPF e un idratante invece molto leggero per pelli grasse che penso invece regalerò perché non è il mio. Questo. E' fatto tipo quasi come un contorno occhi. Lo metto un po' sulle mani, è super super liquido. Spero che mi idrati un pochino. Forse ho scelto la crema sbagliata per mettermi il fondotinta. Però visto che dopo l'esco volevo anche mettermi qualcosa con l'SPF, con la protezione. La sensazione è quella di mettersi appunto un misto fra crema e crema solare. E' effettivamente non si è già assorbita subitissimissimissima. Cominciamo con il makeup. E comincio dalla BB Cream, il fondotinta, ma ne metto veramente una quantità minima. Per uniformare la pelle. e e e e e e sto a vedere che non l'ho portata vedete ah non vedevate ho questa pochette con scritto chiara che mi aveva inviato una ragazza che le fa ma ok allora uso questa bb cream uso questa bb cream di marianna zomenedetti per cosmai fai e uso la 4 con un tocco minimo della colorazione 5 e qui metto ne veramente poco e non lo metto di più perchè ogni volta esagero ogni volta e e la 5 me ne metto un po' una 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 più scura più scura e un po' così vado col pennello un po' un po' un po' un po' con un po' un po' un po' un po' oggi penso di farne messa la quantità giusta ok, vedete è un pochino chiaro per me però è un pochino è un pochino è un pochino ok un pochino anche da comunque, che so che ti piace e adesso prima di passare ad altro vado a reidratare con questo perchè appunto la mia pelle tende a seccarsi molto e mi fa molto ridere questo, cioè mi piace questo gesto, mi sembra un gesto da donna di classe al posto di sbruzzarmi il profumo, mi spruzzo questo lì io purtroppo non ho mai avuto l'abitudine di mettermi un profumo non riesce a entrare nella mia routine andiamo di gel, sopracciglia questo è il panabiotico io semplicemente me ne petti non faccio altro, non ne riempio, solo a volte ma questo non è di casa vediamo se ce l'ho se qui la matita potrei anche farlo ma penso neanche di averla qui con me ok il correttore sto prendendo tutto per chi lo volesse cercare si chiama rummaging insomma è tipo il cercare frugare vado ad usare un mix tra questi due correttori della Maybelline guardate che belle le lucine dietro sfocate e la candela bellissimo appunto faccio un misto tra uno e due metto prima l'uno ti adoro ne ho messo un sacco ma per il bene dell'essere è decisamente troppo correttore non 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 ma spero non sia così drogico come sembra ok vabbè siamo qui per rilassarci non per imparare qualcosa e occhi ho comprato recentemente mi metto sempre in link se siete interessati questo eyeliner della NYX di cui parlavano tantissimo anni fa e l'ho voluto provare ed è nirissimo bellissimo, molto forte devo dire forse a me sta meglio quello marrone però questo qui mi avvicinano molto perché vorrei vedere anzi mi sono portato uno specchio mi sono portata questa palette che è bello è bellissima ma non userò oggi è bello ok vado a sistemarmi un pochino il make-up no no non è venuto così male l'ho salvato e vado a mettermi l'eyeliner con lo specchietto che mi trovo se tenere questo pezzo non si veda niente no vado un pochino un pochino ok ho messo un po' troppo spesso qui ma ormai è andata e ok andiamo nell'altro e io ho questo sopracciglio più alto di questo quindi quando ho fatto la consulenza di facial shape verdi il ragazzo che me l'ha fatta mi ha detto che qui dovrei mettere l'eyeliner un pochino più in basso cioè che tende leggermente meno con un angolo minore rispetto all'occhio e qui invece dovrei andare leggermente più in alto vi faccio vedere ok ecco qua e non so se riuscite a notare com'è questo a parte che sono abbastanza soddisfatta questo è un po' più lungo vabbè non so se riuscite a notare che questo è leggermente più alto di questo per bilanciare ok non è perfetto ma non voglio rischiare di fare disastri mascara andate prima del mascara andiamo di blush questo è un blush che mi piace tantissimo si chiama Bee Blushy ed è di By Basic Guy vediamo se riesco a farvelo vedere scusate che ha preso una botta il packing carta non so se riesco a notare mi riesco a sentire e la colorazione la colorazione la colorazione è io ho quasi finito non mi ero resa conto di quanto l'ho usato ok e vado a metterlo prima su una guancia questo colore tipo un malva l'altro guancia è abbastanza luminoso e si fonde molto molto bene quella bella mi piace tanto tanto e poi trovo che io sono bimba di Basic Gaia mi non so probabilmente ve l'ho detto spesso non mi ricordo mi ritrovano i suoi valori mi ritrovo non so mi sembra una persona con cui andrei d'accordo quindi mi piace molto seguirla ok eccoci magari dopo metto un pochino più di coloratore qui mi piace molto più di coloratore qui ho visto anche un po' di rimasuglio di blush lo metto un pochino anche a te mi piace molto più di coloratore qui mi piace molto più di coloratore qui ! Ah, due step, mancanti il mascara, 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 mascara e il rossetto, anche se fa da mangiare. E poi se c'è tempo vi metto anche un pochino di odio sui capelli, perché sono un po' secchi. Ha anche un gloss molto carino, forse potrei mettermi questo, vediamo. Com'è mascara, 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 uso il Lush Paradise, anche questo estremamente nero, devo dire. E, uso lo spettino, magari. E, uso lo spettino, anche questo è un pochino, anche questo è un pochino. Ok, vedete tutto così nero, così intenso fra eyeliner e mascara. Diciamo che, probabilmente, è molto forte per me. Io sono più valorizzata dai colori teli e magari dal eyeliner marrone, mascara marrone. Però, questo è un pochino, anche questo è un pochino, anche questo è un pochino più da sera. Questo è un pochino, anche questo è un pochino più da sera. Passiamo all'altro. Prima uto rimasodine. Prima uto rimasodine. fresco un pochino e quando ho descendo ci sono venute bene anche questa il sento viene malissimo guardate che devo andare a pranzo eccoci eccoci qua ecco qui ho fatto vedere il risultato da vicino c'è una ciglia che risalta però mi piace molto secondo me questo make up comunque non sono fuoco mi valorizzo abbastanza riprendo un attimo il blush eccoci vado a metterle un niente sugli occhi giusto per dare leggermente color ok sono ossessata da questo suono sono veramente fissatissima con questo suono ultimo step allora tirò fuori i due prodotti che voglio usare voglio usare sempre questo e voglio usare questo come lip combo ecco sono due colori leggermente diversi uno un po' troppo rosato uno un po' troppo arancione ma penso che insieme possono darmi soddisfazioni vado ancora a darmi una passata leggera vedete che carina vedete qui c'è la tinta io vado a mettermene una quantità minima e mi piace fare così soprattutto che perché trovo di un volume molto naturale alle labbra ultimo step vado ad usare questo gloss di Charlotte Tilbury che è il pillow talk infatti è un colore bellissimo quanto amo i pack di Charlotte Tilbury veramente ok grazie grazie è un pochino appiccicoso è un pochino appiccicoso non è non è estremamente lucido cosa che mi piace perché a me i lucidi lucidissimi proprio secondo me non mi danno bene e vado soprattutto qui e vedo un pochino un pochino come di quella spazzola anche qui ma vado un pochino comunque a idratarli e mi ripetinerò un po' mi sono proprio scordata mi sono proprio scordata vado a mettere questo olio a cui sono molto affezionata perché ce l'ho andato come souvenir e forse nell'albergo più bello in cui io sia mai stata e ha proprio un buonissimo e olio di olio di monoi e vaniglia che si può usare forse nell'albergo più bello ma nella stanza d'albergo più bello si ed è appunto olio di monoi che si può usare come struttante come sui capelli insomma metto sulle punte sono e quando si 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 non da mai più fare i bacconi con la piastra andiamo sempre con l'arriccia a capelli per la colla piastra secca e questo è il risultato finale io spero vi sia piaciuto e spero che vi sia piaciuto questo video e che vi siate rilassati con me e se sei arrivato o arrivata fin qui commenta con le emoji di una borsetta o qualcosa dovrebbe esserci no? non lo so e questo è il risultato e questo è il risultato io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunta l'ora di avvassare le luci 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 Sweet, sweet rins, buenas noches, buenas noches, dulces sueños, buon nuit, 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 buon nuit. Sweet, 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 sweet grazie tutto come sempre che li aspira